Oh, ladies and gentlemen, welcome to the Magistus greatest YouTube channel ever with the Marvel. Ho fatto vedere un attimino il Time Shop, tutte le cose, quindi direi che possiamo andare avanti con la nostra storiella. E ci dobbiamo anche sbrigare perché non voglio incontrare i mostri in depercorso. Quindi voglio just, ecco, just sbrigarmi. Ok, act Aaron Wash. Cleanami. Boom. Volevo quella verde. Cleanami di nuovo. Ok. Dai, flexa male. Oh, datta sudore. Flexa totalmente alto che sta a piave sudore. E allora sudami. Ah, giro statacco ogni tanto è proprio... Infatti mi sa, è l'ultima flexa del seno di asolo. Eeeh, 55 gold. Come se ne avessimo bisogno. Giusto così, no? Ah, giusto qui bisognava... Bisognava accendere le luci. Giusto così anche. Without candles or magic to get them home, the monster uses crystals to navigate. Sì. 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 Vabbè, però io per un attimo. Ok. Allora di là, infatti, la barba cosa stai fando? Ah, questo cordo, eh? Ok. Forza, su. Qui uno. Ah, direttamente è gigante. Allora, quindi... Allora, questo è più rispetto. Ma che combo so. Oh, è vero. Il primo che sta da solo fa... Fa attacco d'acqua normale. Cleanami. E allora, cleanami. Oh, vabbè. Diciamo che ho tanta voglia di farlo. Tutto, tutta sta cosa. E comunque il percorso, non mi ricordo male, è questo. Il percorso non mi era da salire. Ma, sì, sì, sì. 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 Oh, ed eccoci arrivati questo fantastico putto. Oddio, sta diventando tutto sapere più scuro. Sì, c'è un fiore. Parliamoci. Sì, dietro di te. Che bello. Oh, ecco Andine. Ragazzi, è la fine. È la fine proprio. Seve human souls, with the power of seven human souls, or king, king Asgore, or vediamo finalmente il nome, dreamer, will become a god. With that power Asgore can finally shatter the barrier. He will finally take the surface back from humanity and give them back the suffering and pain that we have undered. Understand human, this is your only chance at redemption, give up your soul, or I'll tear it from your body. Oh, donno. Quindi Andine, insomma, ha questo potere di... Oh, Andine, I'll help you fight. Tipo, forse il most ha finalmente realizzato che Andine stava stava agacciando noi. You did it, Andine is right in front of you. That you found true, see, to her fight. Wait, who's she fighting? Hey, you ain't gonna tell my parents about this, are you? Cadoneggio. Che io non c'era nulla, perfetto. Adesso saliamo qua sopra, ne... Si è creato un passaggio. You hear a passing conversation. Hmm, if I saw my, um, if I, if I say my wish, you promise you won't love at me? You hear a passing conversation. Of course I won't love. Blah, blah, blah. Someday, I'd like to climb this mountain where all buried under. Standing under the sky, looking at the world all around. That's my wish. Hey, you say you wouldn't love at me. Ha, avviso quello lì, dopo gli ha detto questa cosa. You hear the passing conversation. Sorry, it's just funny. That's my wish too. Oh, carini. However, there is a prophecy. The angel, the one who has seen the surface, quello che ci aveva parlato la vecchia tartaruga che parlava tutta così, they will return. And the ground will go empty. Hmm. Eh, questo ragazzi è un po' una, una duplice, una duplice verità. Yo. Hmm. Yo, I know I'm not supposed to be here, but I want to ask you something. Man, I've never had to ask anyone this before. Hmm. You're human, right? Haha, man, I knew it. Well, I know it now. I mean, and then told me, hmm, stay away from that human. So, like, hmm, I guess that make us enemy or something. But, I kind of stink at that. Haha. Yo, say something, mean, so I can hate you. Please. No, I don't say anything. I don't want to make me cry. Yo. What? So I haven't to do it? Oh, certo, we don't have to be on the bat. It goes nothing. Hmm. I hate your guests. Man, I'm such a turd. I'm gonna go home now. praticamente ha scoperto che erano gli esseri umani lui mostro no dobbiamo aiutare forza oh non ci provo andyne lo aiutiamo noi io dude if you wanna hurt my friend you're gonna have to get hurt me first oh at least in summa abbiamo aiutato il mosto minion daniel comincia a indireggiare anche lei comincia ad essere un po' titubbante del di quelle stafere she's gone you really save my skin guess being an enemy was just a nice stuff we just left to be friends instead certo e si amici man I should really go home I bet my parents are worried and sick about me certo e stanno preoccupati non correre che caschi later dude non è caduto attenzione ah eh ragazzi quasi parte eh qui si parte eh ve lo dico guardate intanto dietro quelle quelle torri particolari simile pesoliere poi le vedremo comunque dopo 7 7 1 a soul and he askor will you become a god 6 that's how many we have collected thus far understood 3 year 7th and finally soul ok quindi loro hanno preso fino adesso 6 anime quindi la nostra è l'ultima this world will be transformed l'avete visto poi la stessa potenza che serve dei 7 umani che hanno chiuso la barriera sono dei 7 animi umani insomma this however it's eh costumery from this we make it this far I should tell you that tragic tell of our people he told us very long ago mmm no you know what screw it why should I tell the story we are about to die you 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 are standing in the way of everybody hopes and dreams office history books made me think human we are cool that's the giant robot and flowery swans 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 Hiding behind the kid so you could run away from me again. Develo! Let's not forget your... Whippy, goody, doucheous... Stink! I'm making such a difference by... Hugging random strangers! Akome! You know what would be my fable to everyone? If you were DEAD! Cope! That's right, human! Your continued existence is right. A little bit too, though. Your life is all that stands between us and the other people. Vabbè, that's right, that's impossible to know you. Everyone has been waiting their whole lives for this moment. But we are not nervous at all. Where everyone puts their heart together. They can't lose. And you, effettivamente. Now, human, let's hand this. Right here, right now. I'll show you how the terminated monster can be. Step forward when you're ready. Whoah! I don't know anything about him. I don't know anything about him. I don't know anything about him. That's it! Damn! No more running away! Here I come! Ok, adesso abbiamo il cuore verde e succederanno cose. Io però non voglio... voglio... voglio challengearla così aumenta l'attacco. L'attacco è molto facile, i bulli sono più più veloce. Per quanto riguarda non escapare, almeno non è più facile. Non lo so, non lo so. Non so, non so, non so. Non so, non so, però c'è un po' di questo. Non è così grande ragazzi, ci vediamo che... Challenge! L'attacco è molto facile, il bullet è più facile. For years, we're dreaming of happy ending. Oh, you have l'Angelino. Now, Sunlight is just waiting for us. Means that you could belusion. Still, you told Unlight you just want to be friends. She remembers someone. Her attack became a little less extreme. I won't let you snatch it away from her. Surely, she reminds us of Papyrus. So, I'm dying. Just want to be friends. Remember why? The attack became a little less extreme. No, no, no. No more makeup. Oh! It's the last launch. When I launch the launch, we're going to be the sea, so we can escape. You won't get away from me this time. No, we're going to challenge it. Honestly, I'm doing your favor. Addirittura. No woman has ever made it past Astor. We told you about this time, but why? It's the last issue. Killing you now is an act of mercy. Addirittura. I don't think of her friend and the girl we were first. Oh. Pulse the ground here. I don't think so. Stop being so dumb. I'm silent. Oh, no. So, I'm going to have an attack. Bello. Vediamo qui un oggetto prima da non vediamo, eh? Un next. What the hell a human vado? Ah, this is an attack. Con le lance. E qui si corre. Si corre, si corre, run run run, run, ahhh! Oh, I'm a scemo. And I'm going to the right. Ah, quelli gialli vanno all'alzavarano. Beh, ma no, Fina. I see now what she means by that. Zilla. Challenge. What time did they have made it? That was a failure. Yeah. They need to hand this right now. She remember that. There's an attack on the next team. I'm going to die. Right right. No. Oh, come on. I'm going to die. I'm going to die. Oh, come on. Oh. 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 Oh, come on. Is this OK? Die already, you little rat. Whoopsie deasy. Ok. Let's go, sure, di nuovo. Gordi 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 gordi! No! Bye bye, Lustola adesso! What's up? I was just thinking, you, me, and I should all hang out sometime, after you hang out with me, let's meet up at her house. I think you will make great Pups. RUH, non adesso, Pups! Stop running away. Avete fatto caso, non ci ha partito il cuore verde, quindi adesso possiamo comunque correre fortissimo fin da subito. Welcome to Hotlands. Un tratto c'era scritto lì. Oh, c'è stanza che dorme. Undyne si ferma la danza. E noi, c'è andiamo, forse. Undyne, che sembra insomma tipo un pesce. In realtà è una pesce. Armor so hot, but I can't give up. Dipendiamo un po' d'acqua perché siamo generosi. Some water quality, sì. Cup of water. E gli la diamo. Give undyne the water, yes. Vi la versiamo fortissimo face. Stiamo dando tanto l'acqua sulla guaccia. Eh. Dove sei? Sei in mezzo alla lava. Ti abbiamo salvato. Ti abbiamo salvato noi, l'umano che voleva uccidere. E ora? Ti vai? Ti andiamo a combattere. Ma Sansa c'è ancora di là? Ma lol, non c'è più. Devo parlare con Sansi. Vabbè. Oh, però c'è l'uomo... L'uomo ostrica. L'ostric man. Ok, 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 ok. I was thirsty. So I came over from Waterfall to get a drink. Ma di ammette è andato via dalle cascate per prendere l'acqua. A senso. Se in such a strange laboratory is placed like this. You fell with the damnation. Ma di salvare, però. Sorry. Undine, like, told us. There were totally a human in the area. So, like, us royal guards are blocking off the elevator for now. Gah! Even if the elevator aren't working anyway. Well, do our best, Miss Undine. Mmm. E' quello che non parla. Ok. Allora, ragazzi, direi che... Possiamo salvare qui. Siamo arrivati davanti a questo bellissimo laboratorio. Abbiamo questo bellissimo qui. Questo qui che vedete, il lab. E... Niente. Allora, mi raccomando. Pollicione in su se vi è piaciuto il video. Un commento è sempre gradito. Like sulla pagina di GameLegend RealPlayer se non l'avete ancora fatto. Comunque, troverete tutto, come al solito, nei link in descrizione. Un saluto dal vostro Marvone Maggigone. E... Vabbè. Se proprio lo deve. Bah! Allora... 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 Allora...